Ukraine 0-1, il returning World Race Coastal Champion, Diana Dimchenko! È inutile dire la felicità che si prova in questo momento, però sono contentissimo di aver raggiunto questo obiettivo con questa squadra, con questo allenatore e in questa società. Ci siamo dati da fare anche a casa per poter raggiungere questo obiettivo. Felicissimo, grazie anche alla mia famiglia e a tutti. È stata una bellissima esperienza, era la mia prima gara di costa roving, i miei compagni mi hanno aiutato tantissimo. E diciamo, siamo riusciti a ottenere questa vittoria, soprattutto con un grande lavoro di squadra, sia dentro la barca che fuori la barca. Devo ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno trattato veramente bene e li devo molto. La gara è andata benissimo, nonostante fossimo un equipaggio nuovo, gente che prova per la prima volta al costa roving, insomma, prova per la prima volta a queste emozioni, ma è andata veramente bene, abbiamo fatto una ottima gara, tutti siamo stati ad ascoltare il timoniere che ha gestito la gara perfettamente. Grazie a tutti, senza di voi non saremmo stati qui. Anche per me è la prima volta al mondiale con star rowing, è una grande emozione anche solo partecipare, è coronata da una vittoria per cui buona la prima, bene così. Grazie a tutti. Beh, che dire, cinque campionati del mondo vinti con la maglia del ciclo del canale di Saturnia, siamo una società, il mondo, che ha vinto di più fanora. E questo è l'orgoglio, perché l'orgoglio è vedere la felicità dei miei ragazzi in questi momenti, ti ripaga di tutto il lavoro, dell'impegno e ringrazio il Presidente Saturnia, il Direttore Sportivo di Saturnia e tutti i soci di Saturnia che ci hanno sempre, sempre spinto a fare il meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.